e sono qui per incontrare Lorenzo Bagnoli di Assamann e l'occasione di internazionale ci ha spinto a fare due chiacchiere insieme per raccontare la storia e l'esperienza di Assamann che ormai ha raggiunto una vita di? Di due anni è una vita di un'esperienza di un'esperienza è una vita che è nata grazie soprattutto al contributo del Comune di Milano in vista di Expo 2015 e Assamann è un giornale online nato per raccontare storie di migranti sia al di qua che al di là del Mediterraneo nasce come progetto di cooperazione sul piano giornalistico con l'intenzione di fare anche formazione a dei giornalisti africani. Il primo passaggio è stato in Senegal dove a febbraio dell'anno scorso siamo andati per seguire le lezioni abbiamo formato un gruppo di una decina di giornalisti appartenenti alla scuola di giornalismo di Dakar e con loro abbiamo fatto un blog per seguire appunto le lezioni e per sviluppare i nuovi media che sono una forma di comunicazione che è ancora abbastanza sconosciuta in Africa ed è stata un'esperienza molto positiva e adesso speriamo di rifare qualcosa di analogo stavolta in Burkina Faso che è il secondo paese partner del progetto Assamann. È molto interessante e storicamente come nasce dall'idea di chi nasce questo progetto? Nasce da un'idea di Papkuma uno dei primi scrittori senegalesi che ha scritto in italiano e che voleva appunto provare a girare il punto di vista voleva provare a fare in modo che fossero gli stessi africani immigrati a raccontare a chi non è partito che cosa sta succedendo in questo momento in Italia come sta cambiando, come si sta evolvendo la situazione e poi è stata coinvolta l'università cattolica da cui io provengo, ho finito là il master in giornalismo e così è nato Assamann e oltre all'idea si è creata una piccola redazione che poi è quella che sostiene il sito e che produce i contenuti multimediali che si possono vedere. Ottimo, fuori nomi? Ci siamo io c'è dentro Laura Silvia Battaglia che è giornalista di Avvenire e tutor al master in giornalismo dell'università cattolica e Simona Cella che è la presidente dell'associazione che coordina tutti i lavori. Sì, dall'inizio avete scelto di rivolgervi a Web come strumento per costruire questo progetto mi racconteresti un po' quali sono stati i vantaggi e gli svantaggi visto che comunque la vostra, la tua formazione ma anche l'esperienza professionale della Laura Silvia nasce sulla carta. Allora, i vantaggi sono la possibilità di comunicare con un numero di lettori potenzialmente infinito ed è più facile raggiungere anche l'Africa. Le difficoltà non sono forse tanto legate alle professionalità di chi sta qui semmai era più difficile cercare di spiegare quali sono le caratteristiche del web dal momento in cui ti metti a confronto con i giornalisti in Africa perché lì diciamo che sono comunque meno abituati a questa forma di giornalismo che ha delle sue specifiche. E poi la grande difficoltà era avere una linea di connessione costante per poter postare video, caricare articoli perciò ci sono delle difficoltà tecniche legate alle situazioni dell'Africa però d'altronde non scegliere il web avrebbe escluso una fetta di lettori potenziali enorme. Entriamo un po' nel merito del progetto specifico anche a me è capitato di fare una piccola esperienza con Anthony Cac Pindisoy in questo caso però si trattava della Sierra Leone colgo l'occasione per salutare purtroppo non è più tra noi Anthony è venuto meno questa grande perdita chiusa parentesi ciao Anthony partiamo quindi dalla base quanto è usato per vostra esperienza internet e quanto può essere utile internet in un contesto africano nello specifico della vostra esperienza per supportare la comunicazione sociale e politica è usato sempre di più i dati sull'utilizzo erano davvero interessanti in particolare abbiamo avuto la fortuna di incontrare un ex programmatore di Microsoft senegalese che è tornato in patria e che sta iniziando a sviluppare dei progetti multimediali e aveva così interesse a conoscere A. la nostra proposta e B. il nostro partner senegalese che si chiama Lettemuen ed è uno dei settimanali più seguiti a Dakar questo testimonia come il web venga considerato sempre di più un mezzo possibile per un possibile sviluppo la cosa più evidente dalla mia esperienza è la diffusione degli smartphone io la prima volta che sono andato a Dakar nel 2007 già vedevo degli smartphone dual sim di un produttore cinese ovviamente anche in dei villaggi non esattamente al centro del mondo da questo punto di vista e questo secondo me è un segno evidente di come le nuove tecnologie stiano diventando parte della vita quotidiana anche in Africa quindi secondo me era una scelta obbligata quella di di intraprendere un tipo di percorso di questo genere e lasciarle da parte i vecchi media e se avessi una bacchetta magica che cosa chiederesti per far funzionare meglio questo progetto non rispondimi i soldi però no 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 a prescindere dai soldi chiederei che delle condizioni più facili diciamo così una più facile opportunità una più facile possibilità di accesso a internet in in dei contesti come come quelli africani cioè per quanto si veda questo questo nuovo questo questa nuova forma di comunicazione è comunque davvero difficile tecnicamente realizzarla poi si riesce però è faticoso si perde un sacco di tempo perciò quello che mi piacerebbe sarebbe un accesso a internet un po' più facile nei paesi dove andiamo a cooperare bene io ti ringrazio indirizzo del sito web scandito bene www.assaman.info grazie mille e grazie Arcoiris grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti